I Renziani del Partito Democratico fanno quadrato su Nicola Irto. Anche la riunione del gruppo consigliare di ieri, che ha avuto luogo alla mezzia terme, ha confermato l'orientamento che già era stato espresso durante gli scorsi giorni. Reggio Calabria si è aggiudicata e le derby con Catanzaro nella corsa per la sostituzione del presidente uscente Antonio Scalzo ed Irto ha avuto la meglio su un mimmetto battaglia decisiva, in tal senso, la mediazione di Marco Minniti, che di fatto ha imposto la quatra sul Renziano convincendo Magorno e compagni di stoppare le discussioni in atto. Intanto, nel Partito Democratico calabrese, si continua a sondare l'umore dei delusi Gliuccione e Ciconte preoccupano più le posizioni del primo, ma Oliverio e Magorno contano di recuperare, scontato anche il sì dei democratici progressisti che ieri hanno preso parte all'incontro con i consiglieri del Partito Democratico. I veri guai cominciano con Calabria in rete e la sinistra, che paiono allontanarsi sempre di più dalla maggioranza di centrosinistra. Al momento, sia Flora Sculco che Giovanni Lucera, sembrano intenzionati a non votare per il candidato del PD. Entrambi hanno duramente criticato la gestione del centrosinistra, che non avrebbe coinvolto in maniera adeguata la maggioranza nei processi decisionali. Entrambe le formazioni, inoltre, si sono sentite escluse da qualsiasi tipo di rappresentanza.